Eccoci arrivati alla parrocchia di padre Alejandro, si può vedere bene tutto il complesso della parrocchia e da questa parte è interessante vedere la costruzione di queste latrine. Eccone una. Queste diverse latrine sono state portate qui dalla diocesi per un progetto igienico e verranno portate nei diversi villaggi perché possono servire a gruppi di abitazioni come water, come bagni. È un progetto igienico molto importante in una terra dove c'è molta infezione, dove vi è appunto l'AIDS e dove si sta sviluppando il morbo di Evola. Per tutto questo motivo ecco che il progetto igienico della diocesi è molto importante.